La Rissa, le stelle olimpiche in acqua, oggi giornata di Barcolana pressoché perfetta, soddisfatta di questo 28esimo posto? Bellissimo, è stato un risultato insperato, l'anno scorso avevamo finito il 50esimo e quindi mi ha migliorato quasi della metà, bene, sono contentissima. Stelle olimpiche sempre qui alla Barcolana, come era composto quest'anno il tuo equipaggio che è anche del miracoloso, possiamo dire, per quanto riguarda una delle atlete. A bordo c'era Laia Tuzzo, spagnola, della Vela, Gabriella Paruzzi, sci di fondo, che tutti conoscono, cinque medaglie olimpiche, Alessia Pieretti, che è qua con me del Pentathlon moderno di Roma, Giulia Pignolo, della Vela, Noemi Batchi, dei Tuffi, Monique Van der Voelst, che è questa ragazza olandese che è rimasta paralizzata dall'età di 13 anni, poi con vari altri incidenti è riuscita a camminare e veramente c'è stata di grande aiuto. Poi c'era anche la Karen Puzzer. Quindi dalla montagna, Alessia, come il Pentathlon, la Vela, pensi di tornare? Sì, sì, intanto grazie a Larissa è già il terzo anno che faccio parte del team. È un'esperienza ogni volta straordinaria, poi per il secondo anno abbiamo portato come partner Save the Children, quindi per noi è una grandissima soddisfazione. Approfitto per ricordare il numero di SMS 45509 per aiutare questi bimbi. Grazie a tutti.